Non ci accontentiamo mai, anche questo luogo ha una grande potenzialità che può migliorare come la città, però sicuramente il trend della città e quindi di tutto ciò che insiste in città è positivo. C'è una grande volontà politica, una grande determinazione, sempre di più indicatori ci dicono che si vuole investire nella nostra città. Evidentemente stiamo facendo quello che la politica dovrebbe fare, creare le condizioni per investire e noi ringraziamo le persone di qualità, di competenza e passione che anche tra mille problemi scelgono Napoli, investono e noi cerchiamo per quello che possiamo di sostenere queste iniziative. È stata inaugurata stamattina la sedicesima edizione del VEBO, il salone dedicato alla bomboniera, articolo da regalo e casa, che si tiene alla mostra d'Ultremare fino a lunedì 9 ottobre. Saranno presentate qui le nuove linee e le tendenze per il prossimo anno, in un settore che raccoglie in città oltre 30.000 operatori ed è presente in mostra con oltre 250 espositori su una superficie di 15.000 metri quadrati, in rappresentanza di circa 750 marchi. Devo dire sempre più bella, io non sono mai mancato da quando faccio il sindaco, quindi complimenti agli organizzatori, agli espositori e poi questa è un'eccellenza napoletana. Abbiamo un grande primato nel regalo, nelle bomboniere. Poi è bella anche l'offerta perché per tutti i gusti, da quelli più raffinati a quelli più popolari, quindi è importante che la nostra mostra d'Ultremare consolidi sempre di più questa vocazione alle grandi fiere e sempre di più anche ai grandi congressi, ai convegni, come si può vedere anche contestualmente.